Buongiorno amici di Oristo in Puglia, come state? Spero benissimo. In questo video voglio terminare un po' tutto quello che vi ho raccontato da giugno in poi, da quando ho deciso di entrare nella nicchia del turismo ex alberghiro, del diritto, da quando ho deciso di creare delle videoconsulenze, dei libri, un pacchetto di contratti, e alla fine sono arrivato a creare proprio un corso reale, vero. Questo è un po' l'ambito, o meglio, la fine di tutto questo percorso che è stato molto particolare, ma mi ha permesso di capire anche quanto è importante la formazione sul territorio, perché molto spesso ci sono degli operatori che non è possibile raggiungerli tranquillamente con Facebook o con le altre modalità. Infatti anche per far sì che persone arrivassero a partecipare a questo corso, ho anche utilizzato una modalità prevista da Frank Merenda, è una persona che è di marketing, forse è il guru in Europa, e vi dicevo, ho anche mandato dei cartacei, dei player cartacei, per informare le persone di questo corso. Ora, quello che voglio dirvi è che alla fine, se avrete la bontà di rivedere anche tutti gli altri video che si chiamano Come io resto in Puglia, è che effettivamente in Puglia si può restare, perché ognuno di noi ha una nicchia a cui può rivolgersi, o magari perché nel lavoro, come me, da avvocato, ci sono tanti avvocati, quindi ci sono tanti settori inflazionati, ed è meglio trovare una nicchia, ma magari lo è anche per voi. Ci sono sicuramente delle attività che fate, per passione o per lavoro, che potrebbero essere migliorate e rivolte ad un'altra nicchia, e per questo vi invito comunque a seguire queste passioni, a seguire queste attività e approfondirle. Molti mi dicono, ok va bene, ma io non ho tempo, quando lo fai? La sera? Sì, sappiate che anche la sera si fanno queste cose, o anche di notte, se qualcuno ha come obiettivo, e soprattutto ha fame, di cambiare un po' la propria attività, perché molti adesso preferiscono lo stipendio fisso, il posto fisso, sono disposti anche ad andare al nord, per pagare poi chissà quanto affitto, e per poi scrivere su certi portali, la Puglia mi manca, così eccola, ok va bene, la Puglia mi manca, però sappiate che potete fare anche qualcosa di più. Io parteciperò poi, molto probabilmente a novembre, alla creazione di un'associazione di persone che gestiscono delle attività ex alberghiere, di una certa categoria, non solo nel Salento, ma in tutta la Puglia, anche per far sì che vengano modificate poi alcune normative, ma non solo. Quello che voglio dirvi è che ci sono tante anche persone, c'è una parte del tessuto sociale della Puglia, che vuole fare qualcosa per evitare che ogni giorno si riempano questi pullman per andare al nord, e le persone che ci siano dentro abbiano solo un biglietto di sua andata. Quindi vi chiedo di rivedervi un po' tutti questi video che ho fatto ultimamente, anche se non sono delle vere e proprie interviste alle persone, e soprattutto vi chiedo un attimo di focalizzarvi e di partire, di valutare se effettivamente c'è qualcosa che potete fare e sviluppare nel territorio. Molto probabilmente tra qualche settimana ritornerò anche con le interviste, sperando di poter conciliare questo canale con l'altro, ma vi assicuro che la mia intenzione è sempre più quella di restare in Puglia e ci saranno delle novità, se non è a fine anno, il prossimo inizio anno. Quindi, che dirvi? Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio di seguirmi sempre, e ci vediamo al prossimo video.